SITESP.A è un sistema integrator, con sede a Bologna ci occupiamo di reti di telecomunicazioni, energia e segnalamento ferroviario. Un ruolo fondamentale in quanto tutti noi, partendo dai giovani, ma anche dai meno giovani, facciamo parte di questo passaggio, di questo cambiamento e ognuno di noi dovrà fare la propria parte, ma la stiamo già facendo oggi. La formazione è un cardine per l'azienda, l'apprendimento per noi è un fondamento, è un apprendimento sia teorico ma anche di parte pratica. Un progetto con tanta sinergia tra un cliente importante e un ente che fa formazione da anni e crede in questo, le aziende, siamo noi, e anche le agenzie per il lavoro. Ci sono gli attori più importanti, quindi c'è il futuro, c'è il lavoro, c'è la formazione e più c'è la possibilità di essere immediatamente inserito in un'azienda e di imparare un lavoro, un mestiere.